Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di hackerare i robot alle Stark Industries, quindi qua, dove c'è Iron Man e dove scendono praticamente tutti. Questa sfida è molto semplice, non può essere fatta in rissa squadre, tuttavia per il fatto che ci sono tanti giocatori potrebbe risultare problematica, anche se i robot da hackerare sono solo tre. Quindi scendete qua e raccogliete una qualsiasi arma, potete usare anche l'auto ma impiegherete molto più tempo. Ecco, al parcheggio qui c'è già un robot della Stark. Scendete prima degli altri giocatori, altrimenti siete spacciati, come vedete mi stanno già sparando. Prendete un'arma, atterrate un robot e lo hackerate. Fate questo con tre differenti robot e la sfida è completata. Prendete un'arma, atterrate un'arma.